Oggi parliamo di musica e mi metto in contatto con Giancarlo Genise. Ciao Giancarlo, come stai? Ciao a tutti, sto bene, saluto a te e a Croc. Tu sei un vocal coach, uno dei più rinomati qui in Italia. All'inizio ho detto vocal coach, vocal trainer. Qual è la grande differenza? La differenza è che il vocal coach è un'estensione dell'insegnante di canto, anche a sua volta dall'insegnante di canto è diverso perché ha sia le competenze dell'insegnante ma poi unisce la parte anatomico-fisica, quella alimentare e in più la parte mentale del mental coach. Guarda, riportata alla danza, perché forse è la cosa più facile per farlo comprendere, non abbiamo l'insegnante di danza e il coreografo. Ecco, diciamo che il vocal coach è un po' il coreografo della voce. Tu hai seguito ultimamente, a parte il Festival di Sanremo, sono un po' di anni che lo segui, però anche l'Eurofestival Song Contest, quello che appunto si è tenuto a Torino. Hai seguito quanti cantanti? Quali? Chi? 41 delegazioni. Ah, sì, sì. Tutti, ero il vocal coach ufficiale dell'Eurovision, quindi avevo praticamente tutti a check up contro il controllo sulla voce, poi c'era chi voleva fare delle cose un po' più mirate, chi un po' meno, chi voleva solo riscaldamento, chi voleva solo chiacchierare ed essere distratto per far sì che non dovesse pensare alla competizione alla gara, perché anche quello influisce, come il guardare anche il telefonino, una notizia negativa o un commento negativo, comunque influisce un po' sul pensiero dell'artista. L'artista è molto tormentato e in quei giorni sono anche molto stressati, un po' per la sveglia, poi i medici che arrivavano dalle varie parti d'Europa e quindi avevano anche il cambio di alimentazione, il cambio di temperatura. Torino ha fatto dei giorni dove ha piovuto all'improvviso, dei giorni dove è arrivato il caldo all'improvviso ed esplosa l'allergia a chiunque fosse all'interno dei camerini, quindi c'era gente con gole secche, hanno scoperto di essere allergici al poline a Torino, quindi insomma è stata 15 giorni di galoppata. Seguire gli artisti internazionali è stata una bella impresa, una bella impresa perché tutti considerano che noi studiamo l'inglese come lo studiamo noi a scuola ma a sua volta anche loro lo studiano a scuola con le loro cadenze locali, quindi chi parla il cieco a sua volta avrà una cadenza cieca, quindi così come noi italiani siamo bravi a gesticolare a volte quando non troviamo la parola per farci capire. Anche loro nel loro modo di essere cercavano di farci capire una parola nel loro modo. Quindi esatto, la sfida è la sfida ma ce la siamo portata a casa. Quindi hai instaurato comunque un buon rapporto più o meno con tutti quanti, c'è stato qualcuno che ha creato dei problemi, se si può dire? No, problemi mai, i problemi non li crea mai nessuno, c'è quello che forse va più in panico, va più in panico perché c'è un callo della voce piuttosto che non sta bene o ha avuto la febbre o c'era chi ha avuto magari qualche membro dello staff che era positivo al covid, noi eravamo tamponati tutti i giorni prima di entrare dentro il palazzetto, quindi magari qualche membro dello staff veniva allontanato. Scusami Giancarlo, mi viene spontanea la domanda, anche Laura Pausini è stata tamponata immagino in quei giorni? Tutti, 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 tutti siamo stati tutti tamponati, infatti non capiamo come Laura, secondo me l'avrà avuto un contatto in albergo penso, oppure gli si è sviluppato perché proprio da sabato sera lei ha detto io non mi sentivo tanto bene sabato sera, quindi calcolando un po' i giorni, perché poi sabato mattina è stato fatto l'ultimo tampone. Sì, però l'incubazione sappiamo che magari avviene qualche giorno prima e quindi si manifesta appunto qualche giorno dopo. Però comunque è stata bravissima, io faccio i complimenti a Laura Pausini, comunque nonostante tutto è stata fenomenale, veramente molto molto brava. Ma guarda, la gente critica perché ha il piacere di criticare, no? Perché deve sempre andare a trovare il pelo nell'uovo a chiunque, la pronuncia e keep calm and porca vacca, invece è il bello di Laura Pausini. Laura Pausini è così nel mondo perché rappresenta l'italianità, cioè noi siamo questi e Laura è stata veramente grande. Non credo che in Italia ci sarebbe stata altra persona se non al di fuori di Raffaella Carrao che lei ha citato in grado di poter presentare l'Eurovision Song Contest. No, no, brava, brava. Brava e bravi tutti quanti, anche Cartelan, anche Miche. Senti, allora io intanto, mentre noi parliamo scorrono anche delle immagini che io ho preso, insomma, dalla tua pagina Facebook dove tu alleni un po' la voce, per esempio, di Rosalind, la cantante armena, oppure di Michael Ben David, il cantante israeliano, insomma, hai avuto un gran bel lavoro da fare. Però volevo raccontare una cosa che ti riguarda, perché tu sei stato, sei un cantante, comunque hai iniziato la tua carriera come cantante ti sei scoperto vocal coach quando ad un certo punto nel 2001, mi pare, aiutami a ricordare questa data, 2011, ecco, ti si è bloccata la bocca, mentre cantavi era un capodanno e si è bloccata la bocca. Che è successo? Ho avuto una paralisi facciale che all'inizio pensavano, dalla prima di anni, se mi facevano un errore, pensavano che io avesse un tumore al cervello, quindi avevo ovviamente tutte le crisi possibili, inimmaginabili che una persona possa avere quando ti viene diagnosticato questo. In realtà era un herpes, chiamiamolo così, che anziché sfociare tranquillamente, non può sfociare su un labbro, aveva aggredito tutta la parte nervosa del mio corpo, quindi sono rimasto paralizzato per metà. Cioè tutta la mia parte sinistra era completamente paralizzata, compresa le corde vocali. Dopo due anni tra cortisone, bombardato proprio di framuscolo e di abilitazione, due anni, sono avuti due anni. E ancora non ho la totale forza, ad esempio l'occhio prima si rimaneva aperto, non mi rimane ancora totalmente chiuso. Due anni di abilitazione con il mio professore, che è Franco Fussi, che è il mio coniatra di riferimento, mi ha detto guarda che tutte le competenze che tu stai acquisendo, prima o poi le dovrei mettere al servizio di qualcuno, visto che sei a casa ferma a non fare niente. E da lì, tra lui, tra Canzian, qui dei Poo, perché dove io sono adesso in questo caso con quegli studi dei Poo, che sono diventato l'amministratore poi dal 2017, lui mi ha detto vedi di studiare bene come si fa a diventare un bravo vocal coach, ma di quelli americani, perché sono sempre stati quelli che portavano le cose dall'estero qua, i primi a portare gli inire, i primi a portare i laser, e poi seguirai noi in Poo 50. Ed è nata così la cosa. Infatti poi ho iniziato a fare il vocal coach nel 2016 esattamente, ufficialmente, insegnavo, facevo le varie cose, nel frattempo facevo tutti i miei apprendistati del caso, cinque anni full immersion e continuo ancora oggi.